Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Raft, signori miei. Allora, prima di partire col video, io vi ricordo di... è passata la foglia? Posso raccogliere anche sotto la barca? No, no. Io vi ricordo... sì, l'abbiamo raccolta. Io vi ricordo di... vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti che andrete a lasciare a questo video, per il... come si chiama... per il supporto che state dando e che darete a questa serie, e... perché cos'altro? E poi vi ricordo di seguirmi sui social, su Facebook e su... cos'è stato? Su Facebook e su Instagram, trovate il link in descrizione, e se nelle eventualità vorreste donare per supportare il canale, trovate anche lì il link in descrizione, ragazzoli. Detto questo, partiamo col video. Ok ragazzoli, allora, siamo messi abbastanza bene, noi dobbiamo recuperare un po' di legno, devi recuperare un po' di legno, ti ho detto, zio. Qua abbiamo raccolto qualcosa... oh, perfetto, abbiamo delle assi di legno. Mettiamo a protezione un attimo questa... questa... ok, perché vorrei evitare che lo squalo me magni il retino, e se ci magna il retino lo squalo, siamo finiti. Allora, signori miei, l'obiettivo del giorno, intanto dovrebbe essere quello di... possiamo bere? Possiamo bere? No, dobbiamo riempire con dell'acqua salata. Ma qua c'ho dell'acqua? C'ho un pesce. Eh no, sono caduto, sono scemo. Devi salire sulla cattura, zio. Ok, mamma mia che mi sono visto messo male. Riesco a riempire con l'acqua dolce? Sì, oh, perfetto. Riusciamo a bere? Bevi. Ok, così l'acqua... siamo messi bene. Questo di qua, rimettiamo l'acqua a cuocere, metti l'acqua salata qui, metti l'acqua salata lì e questo sta cuocendo. Perfetto, questo dobbiamo mettere dell'asse. Oh, zio, metti l'asse e cuoci il pesce. Bella così, plastica, 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 plastica. Non dovevo riempire persa liquido. Levo questa dalla mano, grazie. Che abbiamo trovato qua? Solamente una foglia. Ok, allora, l'obiettivo del giorno, raga, dobbiamo riuscire a fare una vela. L'obiettivo del giorno è riuscire a fare una vela e riuscire a conquistare un'isola. Ecco, appunto, adesso che mi serve un'isola, raga, no, non c'è un'isola nel... No, una cassa, andiamo a ricordare quella cassa, raga. Mi servono più materiali possibili, ragazzone. Mi serve più materiali possibili, quindi recuperiamo la cassa. Veloce, stando attendo alla squadra, dai, bastardo. Squalo Gigi, non si fa gli affari suoi. Mamma, che botta che mi ha dato lo squalo Gigi. Riusciamo a salire sulla nostra zatta? Era prima che ritorna lo squalo a darmi un altro malo mozzicone, un altro malo morso, praticamente. Riusciamo? Riusciamo? Dai, 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 sali, 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 zio. Ok, perfetto, siamo riusciti a salire. Riusciamo a mangiarci lo sgombro? Sì, mangiate lo sgombro, zio. E ritorna in salute. Bella così. Riusciamo a cuocere questo mostro? Riusciamo a cuocere questo mostro qua? Mangia, rimuovi? No, questo mostro non riusciamo a mangiarcelo, a cuocerlo. Quindi mettiamolo nell'inventario. Mettiamo il mostro nell'inventario e lo lasciamo lì. Allora. Ci stanno i gabbiani pure? Da qua non ci sono i gabbiani. Mi ne posso mangiare i gabbiani? Recuperiamo questo. Allora, vediamo un attimino, signori miei, come si fa la vela. Come si fa la vela. Voglio fare una vela. Cosa mi manca per fare la vela? Mi mancano sei asse di legno. Perfetto. Dobbiamo recuperare assi di legno come se non ci fossero domani. Perfetto. Asse di legno. Lì c'è un altro barile. Dai, 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 dai. Recupera, recupera. O mai recuperiamo tutto nuotando, raga. Recuperiamo tutto nuotando. Abbiamo recuperato un asse di legno. Ok. Una corda. Ai, dai. Mannaggia lui. Mannaggia lui. Lei c'ha più a questo. Ok. Riusciamo a fare un altro retino? Oh. C'è qualche altra cosa qui interessante? Sto retino è veramente fracco, signori miei. Oh, aspetta, aspetta. Un altro asse da quel lato. Un altro barile là. Piglialo, piglialo. Lo devi ciappare. Lo devi ciappare, zio. Lo devi ciappare. Dai, 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 dai. Il nostro, il nostro, il nostro bello così. Altro barile portato dentro. Tanti begli assi. Ok. Gli assi li abbiamo recuperati. Qua ce n'è assi? No. Allora, noi dobbiamo farci una vela. Dove la potremo mettere la vela in tutto questo, raga? Siamo stretti in questa barca. In questa barca siamo letteralmente stretti. Allora, potremmo allargarci un attimino. Potremmo metterla qua davanti la vela. E che discorso è che se poi la vela mi si intoppa... Oh, aspetta, 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 aspetta. Piglia il legno. E piglialo è qua un altro. Piglia e ciappa quest'altro pezzo di legno. Ok. Gli assi di legno e qui li stiamo recuperando. Allora, ragazzo, io continuo a giocare un attimino off camera. In modo tale che riusciamo a recuperare più materiali possibili. E vediamo un attimino di allargare la nostra bellissima zattera. Ok. Ragazzoli, ho creato un altro retino. Un altro retino che vorrei andare... Tieni per un modo per altre parti. No. Vorrei... Come si... Lo posso smontare questo? Lo posso distruggere? No. Ok. Comunque ho creato un altro retino che andremo a mettere qua. Ruota. Ruota, ruota, ruota. Mettilo così. Tanto non penso a cambi qualcosa. Mettilo così. Va bene. Montalo lì. Perfetto. Noi che mettiamo un altro legno di qua. Un altro legno di qua. E poi vorrei mettere un altro legno di qua che non abbiamo più legno. Ottimo. Ottimo. Bello così. Ce lo possiamo mettere un legno qua? No. Va bene. Allora, raga, continuo off camera. E vediamo piano piano di allargarci sempre di più. Signori, ci siamo. Voglio andare verso l'isola. Voglio andare verso l'isola. Devi andare di là, zio. Perfetto, ragazzoli. Abbiamo la vela. Abbiamo la vela. Stiamo raccogliendo un sacco di materiali interessanti. Ottimo. Ottimo, raga. Abbiamo ottenuto la vela. Stiamo andando verso quell'isola che è uno scoglio. Dico, io ho fatto tutto questo ambaradano per andare a vedere uno scoglio, signori miei. Ma stiamo scherzando? Non c'è sta niente là. Ma dai. Abbiamo fatto tutto un ambaradano. Tutto la vela. Tutto bellissimo. Tutto carino. Per uno scoglio. Isolato. Cioè, non c'è sta nulla. Uno scoglio in mezzo al mar. Va bene. Allora, ruotiamo un attimino qui la nostra bellissima vela. Devo ruotarla. X muovi. Come si muove sta cosa? Zio, non mi si muove. Oh, ok. R per ruotare. Ok. No, no, no. Andiamo da un'altra parte. Andiamo di là. Andiamo di là. Con la vela ora ci muoviamo meglio, raga. Quanto meno siamo più veloci. Siamo più veloci. Io voglio recuperare qualche altro asse di legno. Per riuscire a mettere un attimino in sicurezza la barca. Tra l'altro dobbiamo mangiare. Porca miseria. Dobbiamo mangiare, raga. Dobbiamo mangiare. Posso fare una canna da pesca? Mi mancano la tanta corda. Uh, là c'è un'imbarcazione morta, raga. C'è un'imbarcazione morta. Noi siamo pure morti. Ottimo. Devo mangiarmi qualcosa. Devo mangiare qualcosa. Devo mangiare qualcosa velocemente. Dammi questa patata. Dammi la patata. Te ne puoi mangiare una, zio? Quanto meno attutiamo un attimo la fame. Dai, 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 dai. Vai verso quella barca. Vai verso quella barca. Chiudi qua. No, no. Come si chiude? X. Quindi premuto per... No, no, no. Come si chiude qua la vela? Porca miseria, Dio. Devo recuperare quella cosa. È rischiosissima questa cosa che ho fatto, raga. Perché la nostra barca, ma se ne sta andando a vento. E lo squalo un momento almeno. Lo deve mangiare per forza. Abbiamo raccolto la cassa. Via, 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 via. Recuperiamo la barca. Recuperiamo la barca. Mamma che morso che mi sono visto proprio in faccia. Dai, 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 dai. Nuota, nuota, zio. Nuota, zio, verso la tua barca. Porca miseria. Nuota, 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 nuota. Nuota, 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 nuota. Mi sento la... La... Come si chiama? La... No, la cagnotto. La... La... La pellegrini. Dai, dai, sali, sali. Ok. Ragazzoli, fermi tutti. Siamo in una situazione un po' di... Mh... Fondo schiena abbastanza grosso. Ma detto questo ne abbiamo fatto tanti bei progressi. Dobbiamo recuperare un sacco di legno. Bello così, bello così, daglie così. Ok. Cosa ci possiamo fare? Posso farmi un asse per coltivare... No, non posso coltivarmi le patate. Posso farmi un asse per coltivare le patate? Eh... A se vi, lo possiamo fare. Permetti di far crescere le piante. Crea. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, raga. Cosa abbiamo fatto? Dov'è? Qua. Ottimo. Mettimelo qui. Perfetto. E ci puoi mettere una patata? Pianta la patata cruda. Ok? Ok. Abbiamo piantato le piante. Mannaggia a te quanto mi stai sulle scatole. Devo farmi un... Occhio che stai per scammare, zio. Devo farmi un cavolo di coso. Ma ce ne sono isole in vista? C'è il nulla cosmico, raga. Non è che ci sono isole in vista. C'è il nulla cosmico. Io devo mangiare. Mangiamo questo rapanello. Mangi. Andiamo a mangiare, raga. Sì, mangiate pure l'altro. Recuperiamo un poco. Qua dovrei avere l'acqua pronta, se non sbaglio, sì. Riempi con acqua dolce. Bevi. Ok. Questo gioco sta diventando più complicato del previsto, raga. Riempiamo e mettiamo a cuocere. Ok. Devo trovare il modo di mangiare, raga. Devo trovare il modo di mangiare. Grande cassa. Recupera questa cassa. Bello. Guarda, 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 l'asse di legno, l'asse di legno, l'asse di legno. Mannaggia, abbiamo perso l'asse di legno. Allora, allora, stiamo calmi. Stiamo calmi. Calma e stanco e freddo. Calma e stanco e freddo. Sta calando la notte. Questa cosa non è buona. Noi dobbiamo farci un asse di legno. Ma prima di tutto dovrei farmi la canna da pesca, raga. Devo, 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 canna da pesca. La possiamo fare? No, mi sono mangiato tutta la corda. Porca miseria. Porca miseria. E allora che mi posso fare? Non mi posso fare nulla. E l'asse di legno, però, l'asse di legno me la posso fare. Mi manca pure lì la corda. Ma porca di una paletta ambriaca, mi manca tutto. Allora, perfetto. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, posso farmi la canna da pesca? Canna da pesca? Canna da pesca? No. Allora, mi fai la lancia, così praticamente il pesce lo teniamo a distanza. Porca di una paletta ambriaca. Perfetto, ok. Così il pesce, quando viene a rompere le scatole, ci pensiamo noi. La patata l'abbiamo mangiata, così siamo messi un poco meglio in sicurezza. Isole non se ne vedono a distanza. Vedete le isole, raga? Questo è il nostro punto di vedetta. Vedete le isole? Io non vedo assolutamente nulla. Va bene, ragazzoli. Detto questo, io dico che abbiamo fatto dei piccoli progressi. Io, prossimo video, vedo un attimino di sistemare un poco meglio questa zattera, perché siamo messi abbastanza male. E vedo un attimo di migliorarla. E recupera quel pezzo di plastica. E niente, ragazzoli. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video, sperando che la notte porti buon consiglio e tante situazioni nuove. Speriamo, raga. Speriamo di sopravvivere a questa notte. Aspettate, aspettate. Pidiamo qua il barile, lo pigliamo assieme, lo pigliamo assieme. Dagli, dai, incassati, incassati, incassati. Beh, questi retini sono spettacolari, raga. Va bene. Detto questo, ci vediamo. No, 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 recupera, recupera. Sono troppo lento, raga, sono troppo lento. Mannaggia a me. Detto questo, ragazzo, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Ho bisogno di acqua dolce. Ma una cosa semplice, no. E una cosa semplice, no. Bevi, bevi di questa acqua cruda. Ho bisogno di acqua dolce, ma porca miseria. Riempi con acqua dolce. Andiamo a innaffiare le patate. Chiudiamo il video così, raga. Innaffia. Innaffia. Ci saremo riusciti, e chi lo sa. Riempiamo con acqua salata e rimettiamo a cuocere l'acqua qua. Perfetto. E questo deve cuocersi. Perfetto, ragazzoli. Detto questo, stavolta, chiudiamo veramente il video. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo aggiornamento, nei prossimi giorni, domani. E niente, ragazzoli. Bella. Ciao, raga. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao. 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 Ciao.